Ci fanno la standing commission con i del Monza per il campionato! Siamo noi! Siamo noi! Bella ragazzi, prima di iniziare la reaction vorrevo ringraziare una persona nello specifico che ci ha aiutato nel realizzare questa giornata ad Andrea Tossi, volevo ringraziarla tantissimo lo ringrazio principalmente perché è stato lui a darci questa opportunità che è importantissima per me forse non riusciremo neanche a incontrare i giocatori che sarebbe il mio sogno più grande però già partecipare a questo evento è qualcosa di importante sinceramente neanche me l'aspettavo comunque non sarà una delle reaction che ho fatto di solito perché diciamo che farò un video più spezzettato e niente comunque andremo allo Power Stadium di Monza a vedere Monza-Napoli e ringrazio Andrea Tossi per questa opportunità ci vediamo allo stadio un'ora e qualcosa siamo arrivati, purtroppo prevede pioggia oggi quindi nessuno può entrare qua, no? Siamo entrati perché? abbiamo questo il pass bar russo dentro dove stiamo noi? qui siamo siamo al New Power Stadium di Monza siamo finalmente arrivati per adesso abbiamo pranzato poi rimetterò alcuni video, alcune riprese e... oh, ci sono più tipici del Napoli per adesso che di quelli del mondo benedetto, benedetto 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 intanto la promozione ufficiale è tutta turn over tranne Ozyman e il centrocampo che rimane anch'issà, anzi rischio è robocco ciao 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 1-0 per il Monza 1-0 per il Monza 1-0 per il Monza il primo tempo allora sinceramente mi aspettavo un Napoli diverso un po' motta e lo stadio è bellissimo tipo sono molto sportivi e niente mi aspetto un Napoli diverso nel secondo tempo adesso ritorniamo nello stadio e niente forza e dico il quarto rigore che manco va a vedere al bar perchè due erano sicuri che neanche li ha visti al bar sto coglione è stata comunque una bella esperienza perchè è stata così comunque siamo stati in tribuna d'onore è stata comunque una bella esperienza da rifare però ecco ci sono rimasto male perchè comunque il Monza non diciamo ci ha distrutto perchè comunque ha fatto due tiri e due gol però diciamo che il Napoli questa sera proprio assente non ci ha avuto